Sono stati finalmente consegnati i lavori della chiesa di San Francesco di Paola che si trova sulla centralissima via 20 Settembre, lavori che eseguirà la ditta aquilana a Todima. Nelle prossime settimane cominceranno i lavori effettivi da circa un milione di euro. Una prima parte di finanziamento servirà al recupero strutturale, mentre si è in attesa di una seconda tranche per intervenire sugli impianti e sugli apparati decorativi. La ditta avrà 540 giorni per completare i lavori. La speranza però è che il recupero possa avvenire ancora prima e che possa portare ad una riqualificazione importante di tutta l'area. Di fronte infatti c'è l'Exinam che sarà piazza e parcheggio e questo sarà un ulteriore tassello importante per il recupero. Il tempo previsto sono 550 giorni, contiamo di farlo in metà del tempo. L'appalto riguarda solo però l'opera strutturale, con lo sottamento strutturale della chiesa. Serviranno altri interventi per recuperare gli affreschi e le parti interne della chiesa. Io mi sento onorato di essermi aggiudicato questo appalto perché lo vedo molto partecipato dalla comunità che, devo dire, in maniera numerosissima frequenta la canonica che Don Epicocco è riuscito a ristabilire nella vicina Casa Iannucci. A settembre 2023 erano già iniziati i lavori nella Casa Adiacente, Casa Iannucci e dei locali pastorali, recuperi importanti non solo per la valenza della chiesa ma per il recupero del senso di comunità, un po' sfaldato dopo il terremoto. Qui siamo in una delle arterie principali della città dell'Aquila, via 20 Settembre e questo monumento che era un obrobio su questa strada finalmente trova di nuovo la sua rinascita. Il fatto che noi recuperiamo un monumento artistico è certo un fatto importante ma per noi più importante perché è la casa della comunità. Il fatto di poter demolire questo stabile proprio di fronte alla chiesa e dotare quindi la chiesa di un sagrato, di una piazza e di un parcheggio non è semplicemente a beneficio della comunità parrocchiale ma di tutta la città che c'è penuria di parcheggi e questa è una delle arterie e delle porte principali del centro storico. Grazie a tutti.